Tentato omicidio e rissa aggravata. Sono queste le imputazioni per le 16 persone di Cremona, quattro delle quali sono state arrestate e 12 poste agli arresti domiciliari. Grazie all'intercettazione telefonica e ambientale, la Polizia di Stato è riuscita ad identificare tutti i partecipanti alla Max Rissa della sera del 18 gennaio scorso, quando al termine della partita cremonese-mantova, i militanti di Casa Pound e quelli del centro sociale Dordoni furono protagonisti di violenti scontri proprio nelle vicinanze del centro sociale e nel corso dei quali l'antagonista Emilio Visigalli, a causa di una sprangata nonché calci e pugni, rimase gravemente ferito fino ad entrare in coma. Anche lui però è finito ai domiciliari con la stessa accusa di 14 di loro, Rissa aggravata. Mentre per due giovani di Casa Pound si aggiunge anche la grave imputazione di concorso intentato omicidio. Questa mattina in questura a Cremona si è tenuta una conferenza stampa alla quale ha partecipato il procuratore Roberto Di Martino e il questore. Una delle ragioni per cui il giudice delle indagini preliminari ha firmato gli arresti, è stato detto in conferenza stampa, è stato perché da alcune intercettazioni ambientali sarebbe emerso che era in preparazione una rappresaglia in grande stile del centro sociale e d'ordone contro Casa Pound. In base alla ricostruzione della polizia risulterebbe che la sera del 18 gennaio, mentre esponenti di Casa Pound raggiungevano le proprie automobili nel parcheggio della Croce Rossa, proprio vicino al centro sociale, sono stati bloccati da un cordone di una decina di antagonisti guidati da Visigalli, armati con bastoni e spranghi con l'intenzione di tendergli un agguardo. Questo come rappresaglia per l'affissione di alcuni adesivi riproducendo il logo di Casa Pound davanti al portone del centro sociale.